Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sto usando un personaggio nuovo Cioè nuovo, ce l'ho da un'eternità Più che altro non l'ho mai calcolato E niente, praticamente è la mia maga, Naga E niente, niente di che Come vedete è vestita alquanto schifo C'ho le leone viola C'ho roba buttata un po' così Alla meno peggio per così dire Vedete, ecco, buonanotte Gli artefatti blu Il set qui c'ho quello di Neverwinter Che dà 3% di vantaggio Volevo mettere il set questo qua Che dà più livello oggetto Ma non sono detto, tanto che ci faccio Non ci faccio niente E quindi è così I compagni non sono messi male Però comunque tutta la roba da livellare Adesso c'ho lo Staldorf Che porino l'ho preso adesso Con l'evento della sedia di Neverwinter Qui adesso sono a Darya, credo, sì Insomma, mi sono fatto dare, diciamo Dei consigli da una giocatrice Che usa la maga Per come impostare i poteri E questa roba così Però io non so usare il PG Quindi sparo molte cose a caso E lo uso molto a caso in pratica E ho buttato su, come vedete La banda dell'aria Così, giusto per far qualcosina Ma il qualcosina che faccio è praticamente nullo Non è niente, diciamo Questo mi ha investito Sto maledetto Vedete, io sparo i poteri E ogni tanto non li prende Boh Oh, un bel CR Che ci piace CR sempre bello A me piace Io penso di essere una delle Uniche o pochissime persone A cui piace CR E a tutti quanti gli altri Non gli piace Castel Ravenloft Io l'adoro invece Vediamo com'è il gruppo Sono tutti alti Tutti bassi I don't know Scriviamo I don't know I don't know Che non è vero Però Lo uso sempre LOL Scriviamo a Michael LOL Ehm Mamma mia Ha detto il tipo Che lo usa No, ha fatto Il manichino A me Mannaggia Cioè il manichino La marionetta Vabbè Vabbè Ci sono tutte le cose Non conviene nemmeno Sparare Finché ci sono Le anime Le sorelle Se non la porta Via Vabbè no ma sembra me fa la marionetta ufa io di solito smetto di menare quando c'è sta roba delle quattro frecce non mi viene da menare pure potrei lo stavo rianimando sempre più lontano sempre più distante vai a girare d'engo sto completamente usando i poteri a mezzo a caso mi son provato a dare una mezza rotazione ma ovviamente sarà sicuramente sbagliata in pratica uso potere a volontà da gelo poi potere a incontro da gelo poi poteri a volontà da combustione e poteri a incontro da combustione questa è la rotazione che mi son dato che sicuramente non va bene però almeno mi son dato un ordine no sparo veramente le cose a caso che poi alla fine magari sbagliando è la stessa cosa perché tanto se sbagli a rotazione come tirare le cose a caso però vabbè facciamo finta facciamo finta che sto facendo una cosa sensata ecco ecco esatto più che altro mi son dato un senso all'usare il pg ecco Grazie a tutti. No, ma sto un'altra. Per dire, adesso la rotazione non l'ho fatta. Ho tirato cose a caso, veramente. Però vabbè, a noi non ci interessa. Ci stiamo divertendo col mago. Anzi, con la maga. Vediamo? Allora, dai. Regola! Il secondo DPS mi dà solo due milioni. Ah beh, però è andato a fare il libro, giusto? Voglio discorrere. Spariamo cose a caso. Il ghiaccio lol. Dove l'ho buttato il ghiaccio lol? Allora. Allora. Impressivo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E vedi mi sono dimenticato di mettere almeno i battiri del compagno a single target Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info E' già che ho il potere da distante E' morto il chiarico? Non si sposta il chiarico e muore Giusto E' giusto Dai costa la lama maledetta Si è buggato Si è buggato Era già distrutta O si è buggato Perché avrebbe dovuto distruggere la colonna qua E non l'ha rotta Wow Chi è? Diamant set Apocalypse E cos'altro? White Dragon Ah questo è uno Che prima chiedeva informazioni sul chiarico Qual'era il set migliore Che voleva curare il gruppo? Che voleva from ancient ops uschiette in coda vediamo se riesco a ghiacciare come si scrive? non mi ricordo mica io oh i miei figli i brought you some scuola beasty i so i so so i i non sto giocando per scrivere a questo qua allora skipiamo tutto tanto ormai qui speriamo va a sinistra amiche vai a sinistra non a destra e invece non va a destra chi è che è morto è greve come dicono gli altri è greve morire qua vedi perché io preferisco andare a sinistra non a destra perché poi ci metti 30 anni a cliccare non c'è Ah, mi sono dimenticato di consigliarli anche Drift D'Orden, volendo. Lest I slip your grass away. Enough! Challenge me in my town, if you dare. We shall see how proficient you are with that blade. Let's go! Grazie a tutti. 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 Molto a caso lo stiamo usando, sto cavolo di mago. Vabbè, chi se ne frega. Scusate se non ho parlato molto, ma mi sono messo a scrivere a sto tizio qua. Your friend, your friend, your friend, your friend belongs to me now. E niente, e niente, e niente, qui dovevo mettere il battito, e non ce l'ho messo, vabbè, non ce l'ho messo, vabbè, non ce l'ho messo, vabbè, non ce l'ho messo, vabbè. Non ce l'ho messo, vabbè, non ce l'ho messo, vabbè, non ce l'ho messo, non ce l'ho messo, ma... Vabbè, non ce l'ho messo, vabbè, non ce l'ho messo. Non ce l'ho messo, vabbè, non ce l'ho messo, vabbè. Non ce l'ho messo, vabbè, non ce l'ho messo, vabbè, non ce l'ho messo. Per prender l'altro... Oh... LOL LOL Lolle. Io pensavo che stavo là per prendere l'agro con il potere incontro e invece... Perché a volte prendendo la spada non si riesce ad agrare. Perché magari il DPS forte colpisce prima e si prende l'agro. Anche l'altro se viene a dire, Lolle, il grit. Perciò perciò, perciò a continuare a rimanere. Ora, grazie a tutti i nostri amici! Ma tu sei bello, ragazzi! Mi sono autostunnato di proposito Però vabbè Tanto è moruto È moruto Allora Vediamo un po' 5 lingotti Vabbè prendiamo Tanto se non c'è da niente Qua non posso fare la chiave E quindi ringraziamo Abbandona Abbandona Ok Allora prendiamo il Chiarico per il tizio Io vi invito A scrivervi al canale A lasciare un bel mi piace E niente Ci sentiamo al prossimo video Ciao